Gang! Raga, oggi è fantastico! C'è un sole pazzesco e a guardare la neve mi acceco e bianchissima. Davvero stupendo! Adesso sono appena arrivato, vado a prendere lo snow, i scarponi e si sfreccia. Madonna ci sono un botto di montagnette di neve! Pagno! 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 Che palle! Grazie Grazie Finito Strutto Le quattro e mezza Ci hanno utile la madonna Sè Sono tornato a Milano Penso che si veda E comunque Niente, sono contento di essere tornato Dopo una settimana Più di una settimana fuori Fuori casa non resisto raga A parte d'estate Il rientro a scuola è stato abbastanza traumatico Infatti adesso sto andando In palestra Adesso vi farò vedere Il mio compagno di palestra Ecco io lo vedo raga, lui non vede me Guardate con che voglia Si approccia All'andare in palestra È una cosa pazzesca Iniziavano a fare Porto E l'altro riso Non devo andare all'altro lato E poi l'ha iniziato a fare Burdai Stiamo andando a fare Burdai Vabbè Stiamo andando a fare Il petto Pazzesco Petto di pollo Aia cazzo In palestra non registriamo Ci mancherebbe Prenda a calci sta cosa Andere Ecco Guardate Guardate